Musica Musica Allora ragazzi, diciamo che è quasi finito gli altri anni perché è napoletano Oh, stanno sparando un po' di cazzo mio Guardate là come stanno bello Guardate la camera nostra, guardate Stanno proprio a ricreando che lì là Mannaccia Mannaccia Ma anche la figata, vai giù, è troppo bella Guardate, stanno a ricreando che le vanno a essere la camera nostra Stanno proprio a ricreando che lì là Dai, ha già fumato Ha già fumato E mi ha già scatto che lì 10 litri di bottiglia E' la prima volta, ragazzi, per me qua Bella 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 Allora, per me così è la prima volta Allora Adesso c'è un'esperienza troppo bella Come i tossici Tossici ha già fumato Ma aspettiamo pure il fuoco C'è anche la cazzo mio E' la mezza La cazzo è la cazzo E' la cazzo E quindi poi Purifuoco Cazzetello auguri a tutti quanti sicare un po' limone oi si scopo aca metcia ma casparlo un buone Guardate il capo da noi, stai, stai Ah no Sparare? Sì Un po' di sommo qui Allora Però No Allora ragazzi Perché è nevole danno Ma io però Non è facile Questi scherzi Perché è napoletano Allora perché è napoletano Ripetiamo una altra cosa Sa benissimo che prima Una volta I fuochi duravano Fino alle 2-3 di mattina Poi Man mano Questa tradizione È scesa a un'ora A mezz'ora In mezz'ora tutti quanti Sparano tutto Sparano tutto Ne comprano fuochi Però comunque ci sta sempre Questa Avviciniamo a me Ci sta sempre questa Questa tradizione Del fuoco d'artificio Però dura veramente E' molto 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 di meno Rispetto agli anni Rispetto agli anni precedenti Cioè mi ricordo un anno Che i fuochi Ognuno comprava Centinaia e centinaia e centinaia di euro Di fuochi E duravano praticamente Quasi Fino alle 4 di mattina Un anno Un anno Proprio L'anno più Proprio I fuochi Del fuoco Bellissimo 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 Allora A San Francesco a Monde La visuale E' veramente migliore Però presumo Che la visuale La visuale All'oggio Quello là Che abbiamo visto Stamattina Sarà qualcosa Di tremendo Per tutti gli interessati Di Bordello Sappiate che Da Margellina Fino a Piazza del Lofo E a Piazza Plebiscito Immagino pure Anche altre piazze Fanno poi Discoteca Lape Quindi Vi potete divertire I napoletani Sono tranquilli Dispetto agli altri Quindi Sicuro Non avrete problemi L'importante E' che ognuno Si fa sempre I cazzi suoi Come si dice Che si fa Che si fa I cazzi suoi Dura Cent'anni Quindi Se dovete andare A divertirvi Non andate mai A fare risse Specialmente In ambienti Dove ci sono Tante teste E' un cazzo Li vedete il flash Ho preso tutte le batterie erologicamente parliamo di un posto da lontano sono tutte queste batterie che puoi vedere qua da vicino come in mente l'anno e vedete da lontano qui sono tutti scelte ma si è scazzata proprio 4 pazzi allora penso che possiamo finire di filmare così aspettiamo che fanno i fuchi i fuchi per lontano da paese alla cassetta dell'olio a più tardi ho dovuto qualcuno che sta proprio sparando a livello di bomba tonica 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 E' un po' di piazzetta che c'è, non è? E' un po' di batteria semplice Mamma mia, che si c'è in questa piazzetta? E' un po' di treno, eh? Non è? E' un po' di piazzetta, non è? Non mi ricordo, non mi ricordo che l'onorevole, non mi ricordo che l'onorevole Una volta che c'è in attesa, non mi ricordo che l'onorevole Non mi ricordo che l'onorevole Ora, se c'è in attesa, la miavole Ma la la ragazzi possiamo dire che è terminato terminata, possiamo dire che è finita, allora da qui è bellissimo però vista dal nostro balcone là, dal nostro balcone che sta dietro a questo vino deve essere una cosa spaziale, è bellissima, vista dall'Ode San Francesco automaticamente è bellissima perché si vede tutto a Napoli e dobbiamo vedere vista dall'hotel di quello là di Porsilipo che siamo andati stamattina, quindi è facile che sia una bella situazione anche lì da vedere perché si vede tutto il golfo proprio, quindi presumo che sia veramente molto bello, allora ragazzi non adesso perdete altro tempo, altre registrazioni non infilmate, aspettiamo se fanno veramente i fuochi a Castel dell'Oro, allora quei fari che voi vedete laggiù, spero che si vedano ecco, quei fari che vedete da laggiù praticamente rappresenterebbe l'inizio del lato discoteca, quindi tutta quella strada lì diventa come un'enorme discoteca fino ad arrivare al Castel dell'Oro e anche questo qua che vedete così, il luminato, quindi diciamo che alla fine passandola qua passate veramente una bella serata, tranquilli, senza problemi, non avete paura di niente. Bella questa, bella bella. Noi veniamo da Mugnano, quindi Mugnano in sé per sé è proprio il paese dei fuochisti, cioè è nominata proprio per i fuochi che una volta anche quando c'era Berlusconi praticamente, la festa di Mugnano era qualcosa di esagerato con i fuochi d'artificio, quindi è nata questa cosa che Mugnano poi in fin dei conti veramente la patria dei fuochi d'artificio, quindi noi veniamo da quella stirpe là, quindi siamo abituati a vedere i fuochi d'artificio qui di là da professionisti, queste qua logicamente rappresenterebbero delle batterie cinesi, ben fatte, però logicamente, però comunque sono sempre batteria, uso personale, ecco, ma là, a più tardi. Allora ragazzi, un paninino, una sfogliatellina, diciamo che questa cosa così, devo dire che in realtà mi è piaciuta, le prime ferite, voi vedete stasera che si fa quando i feriti che ci stavano, comunque una volta ci stavano proprio i ragazzi che gli saldavano i piedi, le mani, facevano i palloni di mara rossa. Voilà, mi è piaciuta questa cosa così di non mangiare nel cenone, capito veramente una figata sta cosa, cioè mangiare il giorno e poi la sera per chi ha più le possibilità di muoversi e accompagnare l'aria, anche con, magari con degli amici, farsi una bella passeggiata, un panino, aspettare la mezzanotte, secondo me è una strafigata pazzesca, quindi andare a Piazza Plebiscito, Cassè del Lovo, camminare, variare, bevessi una birra, molto, 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 molto simpatica come cosa, io la vedo molto meglio. Un po' le tradizioni possiamo anche qualche anno rimanerle a parte. Allora, dicono che i fuochi d'artificio, quelli là, diciamo più professionali, li fanno verso l'uno e mezza, però certamente sto con meglio, qui non è che mi voglio mettere a aspettare a l'uno e mezza, però dal balcone, dalla finestra nostra, almeno il Castel del Lovo si vede, quindi andiamo e vediamo man mano se stanno facendo i fuochi. A più tardi. Allora, ragazzi, in un'altra cotezza stiamo qua, mettevi a aspettare, a fare il fuoco, a fare la finestra, a fare il fritto, quindi auguro a tutti divertitevi, nella vita bisogna solo divertirsi, senza fare mai stronzate però, divertirsi, cercare di farlo, quindi cercare di fare più soldi possibili per divertirsi, quindi i soldi non è che non contano, quindi conta anche la salute, divertitevi, cercate di stare bene in forma, però i soldi fanno la loro parte, quindi cercate di farne più possibili, senza guardare in faccia a niente, ciao ciao a tutti, divertitevi nella vita, c'è solo una cosa da fare, divertirsi. punto e basta, cercate di farlo, più lo fate e meglio è la vostra vita, poi quando andiamo sotto terra, è un altro discorso, però siccome siamo in vita, cercate di farlo il più possibile, non vi abbattete, non siate sempre amareggiati, forza e coraggio e divertitevi, anche con poco si può divertire, non è detto che bisogna fare le cose stravaganti, le cose pazze, anche con poco ci si può divertire, quindi divertitevi sempre nella vostra vita, una pizza, una mangiata, un'uscita, non pensate mai che ai soldi, non li pensate mai, perché quando li pensate non vengono, quando non li pensate all'improvviso vengono, quindi approfittate sempre e divertitevi, buon anno a tutti, non solo buon anno, buon sempre a tutti, da Paolo Orlando, delle garage, mare e viaggio, riprendiamo domani, non stiamo di fuoco, ciao ciao a tutti.